Carissimi, vi consiglio anche di togliere i giacchini, perché è abbastanza caldo. Sì, siamo? Presidente? Sto facendo le riprese io. Sì, ma Presidente guardaci. Allora, siamo più di così, per il suo scello che non si riempie trovare. Con le scarpe, per le scello che vediamo le uscite di scello. Viva, viva la pepana! Scarpe tutte rotte con le scialle nero in testa. Una volta l'anno scende giù per fare festa. Strano personaggio che stanno in mangiandale. Con la scopa vola c'è gennaio nell'aria. Non si stanca mai, o mai, di questo suo lavoro. Mai, i dolci nelle calze, pure tu li troverai. Viva, viva la pepana! Esci, esci dalla tua dana! Se sei una cosa qua, conta solo la montagna. In pop, e vada, ne aspettiamo! In fila, in fila, in fila, in fila, in fila, in fila. E bisogna, non vuoi che bene la natura. E non puoi che bene la natura, non puoi che si può portarsi nella lana. Quindi, signori, non contiamo sia niente. Ricordiamo tutto. E questa la lappura è finita. Non si stanca mai, questo suo lavoro, i dolci nelle tazze, pure tu li troverai. E' tutto il suo sugo, non fa più piedi che l'altro, una mano su, due mani su, due mani su, non sono bimbi anche di qua, non vado a vedere le mani su, bravissimi, venite qua davanti, dai che non vi vedo lì, davanti e qua, vabbè, dove eravamo rimasti, una mano giù, 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 applauso, dai questo è il nostro rito proficciatorio, pronti? Ci siamo, attenzione, la mattina, uno, due, uno, due, vai! Anche faccio il ballerino come muoio oggi, eh? Si muove! Giro, vai, vai, giro, giro, giro! Cambio! Ancora! Alessandra, chiamo un po' martina! Fatto e giro! Andiamo un pochino in avanti con lo che possiamo, e dietro, uno, due, tre, avanti, dietro! Mani su, spi, parte! Pronti? Via! Giro, 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 giro! Come gli aerei, vai! E adesso con le manine, così, scendiamo! Alessandra, c'è Martina qua, è uno, balla, dai! Martina, balla, dai! Due mani, bravissima! Attenzione! Avanti! Salto! Uno, due, tre, ancora! Pronti? Preparazione! Pia! Apai! Vai, Ale! Vai, Marco! Sì, giù, 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 giù Sì, giù, 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 giù Sì, giù, 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 gi Grazie.